Buongiorno a tutti benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico viabilità e transitabilità di oggi venerdì 7 gennaio viabilità caratterizzata da circolazione regolare ma favorita dal bel tempo ma oggi in questo momento ci sono dei problemi sulla strada statale 38 del lago di coma dello spluga per avverse condizioni meteorologiche ovvero una nevicata in atto ed è chiuso tra pianazzo e monte spluga ma condizionata la viabilità anche dalla pioggia sulla 25 anche sul torino brescia e ghiaccio attenzione sul raccordo siena bettole sul raccordo di pistoia e peraltro oggi c'è un allerta meteo da parte della protezione civile su puglia basilicata calabria e sicilia monitoriamo come di consueto le immagini ci giungono in diretta dall'area meneghina come qui siamo a roma nell'area capitolina sul grande prossimità del grande raccordo anulare come vedete si viaggia agevolmente invece flussi veicolari vivaci in area meneghina all'altezza di fiorenza andiamo subito in a 14 per segnalarvi un incidente indicato tra peso refano in direzione ancona e sulla via aurelia un incidente a seguito del quale si sono sviluppati dei rallentamenti in prossimità dello svinco di grosseto in direzione nord e in questo momento desidero informarvi che sta nevicando sulla 24 tra assergi e colledara e tra l'altro sono anche in azione i mezzi spargisale per scongiurare il pericolo ghiaccio comunque è opportuno partire equipaggiati diplomatici invernali o catene da neve queste le notizie di maggiorilievo grazie per l'attenzione una bellissima giornata e arrivederci